Il Lago di Santa Caterina d'Auronzo è il teatro della quarantesima edizione della gara internazionale di Canoa Velocità, riservata alle categorie Under-16, Junior, Senior, Master e Paracanoa. 600 atleti, provenienti da 9 nazioni, si stanno sfidando nel weekend ai piedi delle tre cime. Venerdì alle 8 sono iniziate le prime gare sulla distanza dei 1000 metri, nel sabato invece spazio ai 500 metri, per chiudere la tre giorni, domenica con i 200. Tante gare, più di 100 al giorno, e tanto spettacolo per appassionati e turisti a Bordolago. Per Auronzo, città europea dello sport 2021, un evento importante in preparazione ai mondiali di Canoa Junior ed Under-23, che il paese cadorino sarà chiamato ad ospitare nel 2023. L'amministrazione comunale di Auronzo è orgogliosa di ospitare questa manifestazione sportiva, ha sottolineato il primo cittadino, Tatiana Paesbecher. Un evento annullato l'anno scorso a causa della pandemia e che segna la ripartenza nel segno dello sport. Proprio la sinergia tra sport, turismo e territorio rappresenta secondo Paesbecher un importante tassello per lo sviluppo del cadore e della montagna bellunese. A credere in Auronzo è anche la federazione italiana di Canoa, presente alle gare con alcuni dei suoi equipaggi. Per i giovani italiani, questo è un importante test in vista delle future competizioni internazionali, tra cui mondiali ed olimpiadi, soprattutto per prendere confidenza con le acque del lago Santa Caterina in vista del 2023. Le gare sono trasmesse in diretta sul canale YouTube Auronzo Canoe, con commento tecnico ed interviste ai protagonisti dell'importante tre giorni in Val d'Anciei.